Salve a tutti, benvenuti alla rubrica a scuola con Google, sono Gianfranco Marini e volevo mostrarvi in questa breve guida alcuni strumenti di Google Chrome se utilizzate Google Chrome è bene sapere che esistono degli strumenti che ci possono facilitare di molto la navigazione e l'utilizzo della rete spesso si tratta di strumenti che abbiamo sotto gli occhi a cui non abbiamo mai badato, come è capitato a me vediamo quali sono questi strumenti prima di tutto parlerò della barra dei preferiti e di come sia possibile compiere queste operazioni modificare il nome dei preferiti per risparmiare spazio sulla barra stessa e creare cartelle sotto cartelle cominciamo a vedere queste due possibilità questa è la barra dei preferiti e come vedete possiamo inserirvi dei pulsanti che rimandano a siti o pagine web che sono di nostro interesse e in cui cerchiamo spesso e quindi è comodo averle sotto forma di pulsanti per farcene stare di più nella barra possiamo eliminare il nome vedete che qui per esempio abbiamo Adobe Color ma proviamo a inserire abbiamo l'icona più il nome della pagina proviamo per esempio a inserire questa pagina basta cliccare sulla stella e poi su fine vedete che abbiamo salvato sia l'icona che il titolo per risparmiare spazio dicevo basta cliccare sul destro e su modifica e qui possiamo per esempio cancellare completamente il titolo e salvare come vedete resta solo l'icona per esempio in questo caso è Word Reference conosco l'icona non c'è bisogno che ci sia anche il titolo e quindi l'ho cancellato in modo da avere più spazio possiamo poi andare a eliminare le icone pulsanti dalla nostra barra dei preferiti bene questo può essere un'esperienza molto utile per meglio ottimizzare lo spazio nella nostra barra dei preferiti quindi supponiamo ora che come docenti stiamo navigando alla ricerca di risorse troviamo numerose risorse che magari sono relative all'unità di apprendimento che stiamo sviluppando con gli studenti e vogliamo condividerle con gli studenti come salvarle? certo potremo archiviarle utilizzando una di quelle applicazioni come Pinterest per Tri e tante altre che ci consentono appunto a un listango di archiviare in modo definitivo online le nostre pagine preferite ma supponiamo invece che vogliamo salvarle temporaneamente e non ci interessa archiviarle cosa possiamo fare? per esempio io sto cercando risorse sulla prima guerra mondiale e trovo varie risorse Wikipedia trovo per esempio qui dei video trovo delle immagini e così via a questo punto voglio salvarle per poterne disporre temporaneamente bene potrò andando sulla barra dei preferiti cliccare col destro e su aggiungi cartella qui scriverò per esempio storia e salvo come vedete è comparsa una cartella proviamo adesso a vedere come utilizzarla bene mettiamo sulla barra dei preferiti questa pagina fine e a questo punto abbiamo la prima guerra mondiale Wikipedia trascino cliccando col tasto sinistro del mouse il pulsante comparso nella barra dei preferiti e lo rilascio dentro la cartella storia come vedete adesso è dentro la cartella storia possiamo fare la stessa cosa ancora in modo più semplice richiamoci su questo video evidenziamo l'indirizzo e trasciniamo dentro la cartella storia a questo punto come vedrete avremo anche il nostro video facciamo la stessa cosa con la nostra immagine e avremo a questo punto le nostre risorse dentro questa cartella che potremmo organizzare meglio clicchiamo col destro andiamo su aggiungi cartella per esempio scriviamo video come vedete adesso abbiamo dentro la cartella storia una sottocartella dove potremo trascinare il nostro video poi possiamo fare la stessa cosa ho sbagliato ecco potremo fare la stessa cosa con le immagini e così via in modo da creare una struttura gerarchica di cartelle e sottocartelle in cui andare a salvare man mano che le reperiamo in rete le risorse che ci possono interessare un'altra possibilità che abbiamo è quella di bloccare le schede e anche di sfruttare al meglio la pagina delle web app come vedete ho aperto tante schede potrei averne aperte ancora di più posso magari per sbaglio cliccare su chiudi l'icona e chiudere una scheda che mi interessava oppure potrei volere che alla riapertura di Chrome alcune schede venissero ricaricate si può fare questo bloccando le schede mi recco sulla scheda che mi interessa bloccare clicco e vado su blocca scheda facciamo la stessa cosa per qualche altra scheda in modo da poter vedere cosa succede vedete viene eliminato l'icona del tasto chiudi e le schede vengono poste sulla sinistra e hanno priorità non posso chiuderle per sbaglio e se chiudo tutte quante le schede queste schede le schede bloccate verranno ricaricate da Google Chrome può essere utile anche questo tipo di procedura questo tipo di operazione vediamo adesso la pagina delle app clicchiamo vediamo che in questa pagina abbiamo delle applicazioni o servizi web possiamo inserire le applicazioni o servizi web che utilizziamo più di frequente in modo da poterci recare immediatamente nelle pagine relative e usufruire dei servizi come è possibile aggiungere a questa pagina altri servizi semplicemente inserendo nella pagina dei preferiti quei servizi e poi facendo questa operazione trascinando ecco Word Reference il dizionario per traduzioni oppure Adobe Color e li abbiamo inseriti cliccando si apriranno immediatamente occorre prestare attenzione però che inserire troppe web app comporta dei problemi se andiamo nel menu di Google Chrome e andiamo su altri strumenti e apriamo il Task Manager vediamo che la nostra RAM viene pesantemente impegnata da tutte queste app vedete che sia le estensioni che eccole qui le estensioni che abbiamo aggiunto queste che le app impegnano della memoria quindi è meglio non abusare adesso ho terminato il processo vedete si è chiuso può essere utile anche creare dei pulsanti da inserire nella barra dei preferiti per quei servizi di Google Chrome come il download le estensioni la cronologia della navigazione e poi è molto importante anche la sincronizzazione vediamo queste ultime due possibilità questi strumenti ecco prima il download come possiamo fare ad accedervi velocemente mi recco su download lo aggiungo nella barra dei preferiti e vedete compare qui automaticamente oppure come posso fare per le estensioni con le estensioni si può fare anche dalla barra degli indirizzi digitando extension vedete salvo nei preferiti e avrò anche le mie estensioni qui posso naturalmente anche modificare cancellare download tanto riconosco l'icona e in questo modo aprirò immediatamente la cartella di download e potrò accedervi molto semplicemente per ultima cosa vediamo la sincronizzazione che è stato uno dei fattori vincenti che hanno consentito a Google Chrome di affermarsi come browser che cos'è la sincronizzazione? la possibilità che io ho di creare un vero e proprio ecosistema con Google che mi permette che io acceda dal mio tablet dal mio smartphone dal mio pc di casa dal mio pc d'ufficio o della scuola eccetera di disporre di tutti i settaggi della cronologia dei preferiti della cronologia della navigazione dei pulsanti eccetera che ho impostato nel browser che utilizzo solitamente devo però appunto fare in modo che tutti i browser di tutti i miei dispositivi siano sincronizzati questo è possibile accedendo in ogni dispositivo al mio account Google e impostando l'opzione di sincronizzazione se andiamo nel menu e su impostazioni vediamo che proprio la prima voce del menu persone presenta subito la voce sincronizzazione cliccando su questo triangolino andremo a vedere come io per esempio ho sincronizzato tutto quindi i preferiti la compilazione automatica le estensioni la cronologia le password verrà tutto sincronizzato da qualsiasi dispositivo io accedo a a Chrome se vi accedo naturalmente col mio account Google troverò le impostazioni che ho settato e configurato per esempio dal mio computer di casa o dal mio computer di scuola eccetera eccetera questo è un grosso vantaggio perché ci permette di sfruttare al meglio Google Chrome secondo le impostazioni di personalizzazione che sono state da noi stessi configurate bene questo è tutto spero che queste informazioni possano esservi utili come lo sono state per me vi auguro una buona giornata grazie